Grazie Grazie Siamo qui a Pordenole, non vedo l'ora di cominciare questa serata al PM Box per portare anche qui The Swing Pulse, il format che sto portando un po' a tappe qua e là per l'Italia con lo scopo di unire sempre, fondere, integrare lo swing classico con quello moderno appunto per avvicinare, per cercare di avvicinare anche i giovani allo swing quindi a una qualità musicale che spesso il mainstream non propone e quindi i giovani che magari sono abituati ad andare in discoteca possono così trovare, accorgersi che è possibile divertirsi e ballare anche sull'electro swing L'electro swing è proprio questo, la fusione delle sonorità jazz, vintage, swing su base elettronica con quindi un'evoluzione del suono per mettere insieme appunto passato e futuro senza limiti di età, senza limiti di nulla Sono felicissima di essere qui, ringrazio PM Box, ringrazio The Great Complot Radio, ringrazio Ludwig Sound dell'agenzia di ebooking dell'electro swing in Europa e non ci resta che augurarci una buona serata con lo Swing Pulse Stay Swing, questa è Rosa Antique su PM Box Ciao a tutti Ciao a tutti